In una delle interviste più attese di Belve su Rai 2, Fedez si apre in una conversazione profonda con Francesca Fagnani, affrontando temi delicati come la sua separazione da Chiara Ferragni, il controverso Pandoro Gate e, in una confessione particolarmente commovente, il suo tentativo di suicidio, all'età di 18 anni. Durante l'anteprima dell'intervista, già disponibile su Rai Play, emergono alcuni spunti che saranno approfonditi nella puntata. Il Pandoro Gate, scandalo che ha avuto ripercussioni significative sulla carriera di Chiara Ferragni e sulla sua popolarità, viene confermato da Fedez come uno degli elementi che hanno influito sulla crisi coniugale. Questo evento ha portato a conseguenze giudiziarie per Ferragni e a una riduzione delle collaborazioni professionali, segnando un momento di difficoltà per la coppia. Fedez risponde inoltre con ironia alle accuse di tradimento che gli sono state mosse, sottolineando come le percezioni pubbliche sulla sua vita privata siano cambiate radicalmente dopo la separazione. Il rapper si confida poi su un episodio drammatico del suo passato, rivelando di aver tentato il suicidio a 18 anni. Questo retroscena, che verrà discusso più approfonditamente nell'intervista, evidenzia la battaglia di Fedez contro i problemi di salute mentale, un tema sul quale si è spesso espresso apertamente, con l'intento di offrire supporto e comprensione a chi affronta simili difficoltà. L'intervista toccherà anche il rapporto interrotto con Luis Sall e l'addio a Muschio Selvaggio, promettendo di offrire uno sguardo completo e sfaccettato sulla vita del rapper, oltre le luci della ribalta. La reazione del pubblico all'anteprima dell'intervista è stata divisa. Da un lato, vi sono coloro che apprezzano la sincerità di Fedez e lo sostengono, soprattutto in merito al Pandoro Gate. Dall'altro ci sono i fan di Chiara Ferragni che criticano il rapper per la crisi coniugale. Chiara Ferragni fino a questo momento non ha commentato l'intervista, mantenendo una posizione riservata sui social. Questa intervista a Belve si preannuncia come un momento importante per Fedez, che si apre su aspetti personali e vulnerabili della sua vita, offrendo ai telespettatori una prospettiva più intima e complessa. Cosa pensate delle rivelazioni di Fedez? La sua apertura su temi così personali cambia la vostra percezione del rapper e della sua storia con Chiara Ferragni? Condividete le vostre riflessioni nei commenti e continuate a seguire Flash Trend Ita per tutti, gli aggiornamenti su questo e altri temi di attualità nel mondo dello spettacolo. Alla prossima, con altre news e approfondimenti. Ciao da Flash Trend Ita.